Allora, sull'articolo 65, che è l'indemorazione in identità, dovranno essere, ma sostituire l'articolo 65, l'articolo 63 e l'articolo 63, vanno a sostituire gli articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 63, 65 e l'articolo 65. Quindi bisogna dotare l'articolo 58 a 67, da 57 a 67, quindi dobbiamo votare la votazione e dobbiamo poi votare il processo di una e due votazioni, alla votazione degli articoli derivati a sostituire. Quindi chi è favorevole alla votazione, la votazione come prima, quindi si vota. Allora, qui passiamo alla votazione dell'articolo 65, pubblicata in votazione interterranea che si ha un perretto e che si passa all'uomo, che è favorevole, che è contrario, che si si attiene. Allora, qui passiamo alla votazione interterranea che si attiene. Allora, qui passiamo al qui passiamo a votazione interterranea che si attiene, che si attiene come prima. Articolo 67, mozioni, risoluzioni e ordine del giorno, l'articolo 77 lo diamo per letto e ci passa quindi alla votazione che è favorevole che è contrario, che si attiene come prima. Allora, allo Stato non abbiamo altre modifiche perché dall'articolo 68 del vecchio regolamento si ha considerato la nuova numerazione, quindi parteremo dai precedenti 81 articoli degli attuali. Allora, quindi ora si procede alla votazione dell'interno regolamento, quindi come il Stato è votato nel primo sette del precedente Consiglio e nello sette di regolamento. Allora, io capisco questa cosa con attenzione, però è diverso, si è ricavano tutta la città dei suoi e così è vero, perché è già pensato a tutti. Allora, il regolamento, quindi vado proprio a dire in scena la città, il regolamento deve essere votato per interno, che è fautevole, che è chiarire e che è contatto. Quindi si procede alla votazione dell'interno regolamento, che si va dalla votazione del favorevole, quindi sono favorevoli come prima, 13, sono, si attendono, penso, gli altri, quindi come prima il regolamento, quindi viene approvato. Allora, portiamo l'interno regolamento dell'interno regolamento dell'interno regolamento dell'interno regolamento. e poi provvediamo il problema, il secondo giro di rimanere, come stabilito a noi oltre. Allora, adesso non chiamo, ci sono diversi. Allora, quindi procediamo con limitate le attenzibilità del regolamento, che è il favorevole dell'interno regolamento. Quindi siamo sempre 13, 17 siamo sempre in nove, quindi si considera immediatamente. Passiamo al secondo capo, elezione del vicepresidente. Grazie. Grazie.